Ditemelo voi, allora andiamo lì alla base, andiamo alla base delle cose, chi bombarda, chi ha fatto armi, chi ha mandato mica bombardare, ha costruito armi, si paga le spese di queste cose qui, io non voglio appartenere a una roba che lì dentro dicono una cosa, in televisione ne dicono un'altra.